Ecco, qui sono alla fine, ma non so che dire, ma si fa di dire. Ecco, di lì magari si fa in moto a scendere questa strada. Si faceva, sicuro, cioè il segno qualche può essere. Sì, le moto scendono di qua, però, o segni, però, se vogliamo, eh? E allora? E chi? E chi? Altra palestra, guarda, guarda, guarda giù, c'è una moto che passano in pali, eh, 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 sì, passano in pali, qua, e di là, sempre, due ruote, due carreggi accoppiate, e lì a base, vai, le mei di niente. Ecco, saluto a tutti. Sentiero delle Farfalle, sentiero delle Farfalle, lì, le Farfalle, adesso non lo so, però, è un punto panoramico da, bellissimo, si vede tutte, si vedono tutte le valli, tutte, bellissimo, giù di là fino a Volghera, le Alpi con la neve, e tutta la valle.